I semifinali, i semifinali play-off, contro un avversario insomma sappiamo tutti, la situazione credo a questo punto è molto chiara, giochiamo contro una squadra a Sassari che non perde da 20 partite, da quasi 3 mesi e quindi questo la dice lunga sia sulla qualità che loro hanno, innegabile e questo lo sapevamo, ma anche e soprattutto su come si presentano e si sono presentati a questi play-off e adesso a questa serie, quindi una squadra in uno stato di fiducia assoluto, le percentuali lo dimostrano, la vittoria 3 a 0 contro una squadra solida come Brindisi altrettanto e anche proprio lo stato di forma oltre che di fiducia è una squadra dove tutti stanno giocando al meglio e quindi si sono presentati in questo momento al loro top, nel momento migliore della stagione stanno giocando i play-off. Noi sappiamo che la situazione è diversa, potremmo dire quasi opposta nel senso che siamo arrivati a questi play-off ovviamente con tante assenze, con tanto logorio e con assetti a cambiare e questa è una situazione in divenire che sicuramente non è risolta, ma cosa abbiamo? Abbiamo dalla nostra il fatto che la squadra secondo me ha reagito molto molto bene contro un avversario tosto come Avellino al fatto di dover cambiare assetto, situazioni, perché è chiaramente venuta a mancare del playmaker su cui abbiamo basato un sistema di gioco per tanti mesi e quindi la squadra invece ha reagito a parer mio molto bene, crescendo come chiedevamo durante la serie, perché è chiaro che essendo noi con assetti nuovi dovendo cavalcare ogni volta situazioni di emergenza, cioè Nedovic che ha giocato per generosità ma che non era al meglio ed è stato utile alla squadra in tanti altri modi, nei minuti che poteva avere la continuità per stare in campo e anche lui sempre in crescendo. Insomma, quindi situazioni opposte, ma poi dalla nostra abbiamo anche un vissuto di giocatori che in questa stagione onestamente non hanno mai mollato su ogni fronte nonostante tutte le avversità e sono state onestamente a memoria e ormai di playoff di stagioni ne ho fatte ne ho viste abbastanza, però infortuni così in giocatori chiave e in momenti in cui si sommano non mi erano mai capitate, però di fronte a questo secondo me la squadra ha una sua solidità, ha una sua forza morale e da questa dobbiamo costruire la serie, quindi sappiamo che Sassi arriverà qui subito per fare il colpo perché è una settimana che può preparare i playoff che è sicuramente fresca, noi abbiamo due giorni per rimettersi in piedi, contarsi e vedere di nuovo chi potrà dare come e quanto, ma ripeto abbiamo dalla nostra tanti mesi in cui ci siamo fatti un po' la corazza a superare le avversità e un desiderio che i miei giocatori hanno dimostrato quando sono stati con le spalle al muro con Avellino. Su questo dobbiamo provare subito a resistere al primo assalto che loro faranno e a trovare risorse, quali saranno lo scopriremo poi durante la serie, ma ovviamente è un'altra serie in cui dovremo ulteriormente crescere, lo sappiamo, contro una squadra che invece ha un'identità chiara e ben definita. Dove saranno i problemi? Un po' su varie zone del campo perché loro sono una squadra che può avere diverse identità anche di sistema, può attaccarti tantissimo in post basso, è una cosa non usuale nel nostro campionato perché possono andare a spalle a canestro con il 3, Pier con il 4, Thomas con il 5, che è cool e una serie di tiratori sul perimetro impressionanti e intercambiabili. Oppure possono avere anche assetti più dinamici quando si sposta Thomas da 5, Polonaro da 4 e allargare ancora di più il campo e nelle situazioni di pick and roll, quindi con questi tipi di spaziature riescono ad essere altrettanto produttivi. Insomma una squadra con una potenzialità offensiva enorme e quindi noi prima di tutto dobbiamo partire da questo, da un'attenzione difensiva, dall'essere molto attenti a seconda delle varie situazioni che loro ci proporranno e poi insomma come abbiamo sempre detto non subire troppo a rimbalzo perché questo può essere un problema determinante. Insomma tante piccole partite che ci saranno dentro la stessa fin da gara 1 e noi che dovremo come dire superarci un po' per quello che siamo in questo stato attuale, ma abbiamo una grande sfida, un grande desiderio di volerlo fare insieme ai tifosi che ci hanno dato una bella spinta anche in gara 5 con Avellino e quindi sono sicuro che se la squadra metterà come mi auguro tutto quello che ha in campo perché questo è quello che leggo nelle facce dei miei giocatori, sono sicuro che poi a farci fare uno sforzo ulteriore, un qualcosa di extra ci spingerà anche la gente del forum.